Io sono Diana Lenzi e sono l'attuale direttore aziendale della fattoria di Petroio, nonché figlia dei proprietari. Il mio nome è Gianluigi Lenzi, sono emerito di Neurologia all'Università della Sapienza di Roma e proprietario dal 1961 della fattoria di Petroio. L'azienda è stata ricostruita e creata dai miei genitori. Dal 2008 invece l'ho presa in gestione io, mi sono trasferita in azienda. Io mi sveglio, apro le finestre e guardo qualcosa che so che non è mio, è dei miei figli. Quindi io so che ogni giorno mi devo impegnare, devo lavorare per fare in modo di lasciare a loro qualcosa che sia migliorato. Io ho avuto la grande fortuna per alcuni anni della mia vita di lavorare nell'altissima ristorazione italiana, facevo la chef. La pietanza perfetta viene solo dal rispetto di un ingrediente principale ottimo. Guardo l'uva e penso che l'uva è il mio ingrediente e che quella devo trasformare, che devo rendere una pietanza meravigliosa, un bicchiere di vino meraviglioso, ma che potrà essere unico, speciale e indimenticabile solo se viene da uva perfetta e sana. Gioia, libertà. Nunc esbibendum, nunc pede libero pulsantatellus. Ora è il momento di bere, abbiamo vinto, siamo vivi perché siamo liberi e in gioia. Questo è il vino.